Noi inventiamo le storie. Il nostro gruppo sta pensando alle storie da rappresentare in teatro ed è il gruppo di drammaturgia. L'altro gruppo, che è quello di sceneggiatura, sta invece raccogliendo tutto il materiale e inventandosi le storie per la webserie e speriamo che queste storie possano appassionare tutti, sia i nostri spettatori di teatro che i nostri tantissimi appassionati, speriamo, spettatori della nostra webserie che tratta sia l'uno che l'altro, tutti e due appunto parleranno del diritto all'istruzione, all'educazione delle ragazze e delle bambine del mondo e racconteremo la storia di Madala, ma tante tante altre storie ancora, non solo lontani da noi, ma anche storie di abbandono scolastico e del rapporto tra lo studio e le possibilità che le donne hanno qui in Italia e in Europa per poi lavorare degnamente secondo il loro titolo di studio. Grazie a tutti.